Liberty Lines è la compagnia di navigazione che si è giudicata la gara per il trasporto tra le città di Reggio Calabria e Messina. È stato acquistato un grande catamarano, chiamato Sunny Day, per il collegamento veloce nello stretto. È un grande segnale per il settore trasporti. Il catamarano, che ha una capienza di circa 250 passeggeri, lascia il Mar dei Caraibi per trasferirsi in Italia, verso il porto di Trapani, dove sarà sottoposto a interventi tecnici prima dell'entrata in servizio. Sunny Day, dal prossimo mese di ottobre, sarà pronto a entrare in servizio tra i porti di Messina e Reggio Calabria, come previsto dalla gara avviata originariamente nel 2020 e giunta alla definitiva giudicazione dopo un iter travagliato e un ultimo bando dello scorso marzo.